Le mani dello piccolo sul passante ferroviario di Palermo, sequestrata impresa che operava nel cantiere. Formazione professionale, sindacati unitari lanciano l'avvertenza contro il governo della disoccupazione. Dopo l'attentato terroristico a Tunisi aumenteranno a Palermo gli approdi delle navi da crociera. Buonasera e ben trovati all'edizione di Media News di venerdì 20 marzo. Le mani dello piccolo sul passante ferroviario di Palermo, operazione della DIA sequestrata un'impresa che operava nel cantiere. Vediamo. Sequestro per una ditta che stava lavorando al passante ferroviario di Palermo ad emettere il provvedimento, la DIA che ha messo in atto un decreto emesso dal Tribunale, sezione misure di prevenzione, ai danni delle imprenditrici palermitane Girola Macalì, 46 anni, e Maria Loredano Orlando, di 45. Il provvedimento emesso sul proposto del direttore della DIA ha colpito i beni aziendali, immobiliari e quote societarie della Multiservice Ital Group SRL, intestata alle due donne che operano nel settore delle pulizie e del giardinaggio. Le indagini economico-patrimoniali hanno preso spunto da un accesso effettuato dal personale del centro operativo nel febbraio 2014 presso il cantiere Malaspina, relativo alla realizzazione del passante ferroviario palermitano. Gli accertamenti sulle ditte impegnate nell'esecuzione dell'importante appalto hanno evidenziato a carico della Multiservice elementi di infiltrazione mafiosa. L'azienda, seppur formalmente intestata, Girola Macalì e Maria Loredano Orlando era sotto il controllo di Cosa Nostra, in particolare di appartenente al mandamento di Palermo San Lorenzo con a capo Salvatore Sandro Lopiccolo. Oltre a rilevare che alcuni dipendenti erano affiliati all'organizzazione mafiosa, gli uomini della DIA hanno accertato che l'azienda ha potuto aggiudicarsi l'appalto in questione solo grazie all'intervento di un importante esponente di Cosa Nostra che avrebbe aiutato le due donne a regolarizzare la loro posizione contributiva per il rilascio del DURC. Il sequestro di oggi ha riguardato l'intero capitale sociale e il compendio aziendale della Multiservice et al gruppo, tre immobili, tre veicoli e cinque rapporti bancari e finanziari per un valore complessivo di circa 800 mila euro. E l'ombra della mafia era anche sui grandi alberghi palermitani. Sotto sequestro le società della famiglia Ponte che gestisce la Storia Palace, il Vecchio Borgo e l'Hotel Garibaldi. La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato le società della famiglia Ponte che gestisce tre noti alberghi in città. La Storia Palace di via Monte Pellegrino, il Vecchio Borgo di via Quintinosella e il Grand Hotel Garibaldi di via Emerico Amari. Valgono 7 milioni e mezzo di euro. Il provvedimento della sezione misure di prevenzione del Tribunale arriva a conclusione delle complesse indagini dei finanziari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria. Le società coinvolte sono la Delta Finanziari S.p.a., la Ponte S.p.a., la Vigidas S.r.l. e la Machella Tour S.r.l. a cui fanno capo gli hotel. L'indagine era nata da rapporti poco chiari tra il gruppo Ponte e la famiglia Sbeglia, partendo proprio dalla gestione dell'hotel Garibaldi e dall'acquisto da parte del gruppo Ponte di un credito vantato da Sicilcassa nei confronti proprio della famiglia Sbeglia. L'operazione finanziaria venne fin da subito ritenuta poco credibile e finalizzata a trasferire liquidità dal gruppo Ponte agli Sbeglia. Ma il sequestro dei tre alberghi non è l'unica misura adottata dalla Guardia di Finanza. La seconda misura patrimoniale riguarda infatti personalmente Marcello Sbeglia, già colpito da analogo provvedimento nel 2011. Oggi gli sono stati sequestrati rapporti bancari, postali assicurativi, un appartamento nel centro storico di Palermo, due locali commerciali in zona noce ed un'autovettura per un controvalore di circa 500 mila euro, tutto intestato a due persone considerate prestanomi. Cambiamo argomento, formazione professionale, i sindacati unitari lanciano l'avvertenza contro il governo della disoccupazione del dramma sociale. Da lunedì proteste in tutte le città, il 30 marzo sciopero e manifestazione regionale a Palermo. L'immediata erogazione dei finanziamenti pregressi e la chiusura dei rendiconti con procedure straordinarie per liberare tutte le risorse disponibili a favore dei lavoratori, sia per l'assessorato istruzione e formazione che per l'assessorato lavoro, la definizione delle risorse annuali necessarie per i nuovi bandi, a valere della nuova programmazione comunitaria che deve essere avviata con immediatezza, con atti di governo. L'avvio dei servizi per lavoro e piena occupazione per gli addetti all'interno di sistemi, anche cooperativi ma sostenibili, e con certezza delle risorse. Infine la copertura di tutti i periodi di ammortizzazione sociale e dei contratti di solidarietà avviati. Ribadiscono così le motivazioni dell'ennesima protesta del settore della formazione professionale, i sindacati unitari FLC-CGL, CIS Scuola e Wille Scuola che lanciano così l'avvertenza contro il governo della disoccupazione e del dramma sociale, proclamando sciopere e iniziative di protesta territoriali nella settimana dal 23 al 27 marzo e lo sciopero regionale di tutti i lavoratori del comparto per giorno 30 marzo con una manifestazione a Palermo. Dopo il grave attentato terroristico avvenuto a Tunisi, si aumenteranno a Palermo gli approdi delle navi da crociera che prima facevano tappa nel porto magrebbino. La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato le società della famiglia Ponte che gestisce tre noti alberghi in città, la Storia Palace di via Monte Pellegrino, il Vecchio Borgo di via Quintinosella e il Grand Hotel Garibaldi di via Emerico Amari. Valgono 7 milioni e mezzo di euro. Il provvedimento della sezione misure di prevenzione del Tribunale arriva a conclusione delle complesse indagini dei finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria. Le società coinvolte sono la Delta Finanziari S.p.a., la Ponte S.p.a., la Vigidas S.r.l. e la Machella Tour S.r.l. a cui fanno capo gli hotel. L'indagine era nata da rapporti poco chiari tra il gruppo Ponte e la famiglia Sbeglia, partendo proprio dalla gestione dell'hotel Garibaldi e dall'acquisto da parte del gruppo Ponte di un credito vantato da Sicilcassa nei confronti proprio della famiglia Sbeglia. L'operazione finanziaria venne fin da subito ritenuta poco credibile, finalizzata a trasferire liquidità dal gruppo Ponte agli Sbeglia. Ma il sequestro dei tre alberghi non è l'unica misura adottata dalla Guardia di Finanza. La seconda misura patrimoniale riguarda infatti personalmente Marcello Sbeglia, già colpito da analogo provvedimento nel 2011. Oggi gli sono stati sequestrati rapporti bancari, postali assicurativi, un appartamento nel centro storico di Palermo, due locali commerciali in zona noce ed un'autovettura per un controvalore di circa 500 mila euro, tutto intestato a due persone considerate prestanomi. Sicurezza nelle scuole a Santa Flavia, chiuso il plesso Rapisarda, ascoltiamo l'assessore Salvatore Sanfilippo. Noi abbiamo iniziato a fare una ricognizione di tutti i plessi scolastici da settembre, in collaborazione sia amministrazione sia uno dei responsabili dell'ufficio tecnico, Bartolo Tormina, che ringrazio, e il responsabile della sicurezza a scuola, la professoressa Polvino. Ad oggi posso dire che abbiamo chiuso, è vero, il plesso Rapisarda, tutto il plesso, non solo due classi, però abbiamo subito trovato una soluzione. Per quale motivo? L'abbiamo chiusa perché su una verifica che è stata fatta alla struttura abbiamo accertato che c'era la possibilità di rischio per un distacco di intonaco in alcune classi e quindi abbiamo preferito mettere in sicurezza i bambini per evitare il crollo di parte del soffitto. E quando riaprirà? Diciamo, dirla adesso è un po' prematuro. Stiamo provando a verificare lo Stato, spero perché il sindaco si è attivato, devo dire subito, e ha dato in carico all'ufficio di provvedere immediatamente, però come tempistica oggi purtroppo non ne posso parlare. I bambini hanno trovato ospitalità in altre scuole? Momentaneamente no, abbiamo fatto una riunione a scuola con i genitori e ho portato delle proposte. la proposta che è stata scelta è quella che entro la prossima settimana riapriremo il Plessa in Brugia e i ragazzi da Porticello si trasferiranno a Santa Flavia. Il Plessa in Brugia che l'anno scorso mostrò delle criticità che portarono al trasferimento dei bambini dalla materna all'asilo nido davanti al quale ci troviamo. Sì, diciamo che tempestivamente abbiamo agito, come diceva lei, e quindi noi stiamo cercando nonostante la scuola dell'infanzia non sia scuola dell'obbligo, di garantire a questi bambini e anche ai genitori che hanno i propri disagi la frequenza scolastica. Il Tribunale di Termini Merese ha condannato l'ex dirigente del settore lavori pubblici nonché settore finanziario Giovanni Mercadante a due anni e otto mesi di reclusione con la concessione delle circostanze attenuanti generiche. L'ingegnere accusato di concussione il 9 ottobre del 2013 fu colto in flagranza di reato abusando della sua qualità e dei suoi poteri costringeva la cooperativa sociale Serenità a consegnare di indebitamente la somma di 3.000 euro, quale contropartita per l'erogazione dei pagamenti dovuti dal Comune in virtù dei servizi resi. La Commissione dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari del Comune di Bageria dice in una nota il Sindaco di Bageria, Patrizio Cinque, con procedimento disciplinare del 17 gennaio del 2014 aveva già disposto l'erogazione con effetto immediato della sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso dell'ingegnere. Un bilancio sul lavoro svolto in nove mesi dal gruppo consigliare di Bageria, delinearlo è il consigliere comunale di Forza Italia Maurizio Logalbo, l'intervista. Vogliamo fare vincere che abbiamo prodotto un ordine del giorno riguardante il contrasto alla criminalità organizzata che è stata votata all'unanimità da tutti i consiglieri, nel quale si chiedeva all'amministrazione di adottare in maniera anche cautelativa certe misure di contrasto che dovevano essere fondamentali per la nostra città in questo momento storico di grande difficoltà e di attenzione rispetto anche all'aspetto criminalità organizzata. Poi abbiamo anche prodotto un ordine del giorno rispetto all'assistenza igienico personale ai disabili che ahimè è stata bocciata dalla maggioranza perché non volevano annullare le indennità per devolverle a questo tipo di servizio e quindi questo ordine del giorno proposto dal gruppo di Forza Italia è stato bocciato e però al momento l'assistenza igienico personale ai disabili è sempre ferma alle due ore e non è stata prolungata alle cinque ore. Questo secondo noi è un atto gravissimo perché proprio questi servizi alla persona e ai disabili devono essere immancabilmente erogati. Poi abbiamo anche prodotto diverse interrogazioni, interrogazioni sulle discariche a cielo aperto a Bageria, il Museo Guttuso, abbiamo fatto delle interrogazioni che dovevano essere da pungolo a questa amministrazione sui contrattisti, sull'avvocato esterno, sul bando che è uscito in maniera anche così molto anomala della ricerca di un avvocato esterno. In ultimo abbiamo anche fatto un questionario per ascoltare la popolazione, i cittadini, sul da farsi, su temi caldi che proponevano appunto e che erano imminenti per la città. La dichiarazione di Bruxelles, Pledge to Peace, è stata siglata dal Parlamento Europeo il 29 novembre 2011 a Bruxelles. La dichiarazione nasce con lo scopo di incoraggiare attività e iniziative indirizzate a promuovere la pace intesa nella sua accezione più universale, quale necessaria premessa per l'affermazione del benessere, della centralità e della dignità di ogni persona. Ascoltiamo il segretario della dichiarazione di pace di Bruxelles, Piero Scutari. La dichiarazione di Bruxelles, il Pledge to Peace, effettivamente è un documento molto importante perché ha la funzione di coinvolgere e di spingere istituzioni ed organizzazioni a fare iniziative a favore della pace e quindi specialmente in questo momento assume una grandissima importanza, specialmente in Sicilia, dove ci sono tantissimi firmatari. In cosa consiste? Beh praticamente i firmatari si impegnano a fare iniziative, azioni, a dare spazio a qualunque cosa che abbia come tema la pace. E proprio in Sicilia, specialmente quest'anno, a maggio e a giugno avremo moltissime iniziative di grande importanza che verranno intraprese proprio per portare praticamente azioni che hanno a che vedere con la pace nei diversi ambiti della società. Possiamo fare un esempio? Benissimo. Per esempio si darà vita e nascerà proprio qui da Palermo in collaborazione con l'Ordine dei Medici, un firmatario del Pledge, una piattaforma che è Medicina per la Pace, che avrebbe la funzione di far sì che ci sia una sensibilizzazione per cui il mondo della salute metta il problema della pace e dell'uomo al primo posto in tutte le attività che svolge. Poi ci saranno altre iniziative per cui nasceranno e si stanno già facendo della verità dei programmi di educazione alla pace per i reclusi che vengono fatti nelle case di reclusione. Palermo, in particolar modo il Pagliarelli, non solo aderisce al Pledge, ma sta facendo queste iniziative di educazione alla pace per i reclusi con degli ottimi risultati positivi. A Bagheria, tanti i fedeli alla processione per festeggiare il patrono San Giuseppe. Bagheria ha festeggiato il santo patrono San Giuseppe ieri di mattina alla concelebrazione dei reverenti parroci presieduta al vicario generale Monsignor Carmelo Cuttitta con la presenza di autorità civili e militari. Al termine della Santa Messa la tradizionale benedizione dei pani. Nel pomeriggio la solenne processione del simulacro di San Giuseppe, presente fra gli altri il sindaco Patrizio Cinque, il presidente del consiglio comunale Claudia Clemente, il dirigente del commissariato di polizia Francesco Fucarini, esponenti dei carabinieri, della finanza e della marina. Molti presbiteri che hanno preso parte alla processione, fra cui padre Claudio Grasso, alla sua prima uscita pubblica dopo l'ordinazione a sacerdote. La processione è stata preceduta dalle congregazioni dalla banda musicale. Il simulacro è stato portato a spalla dai componenti della congregazione di San Giuseppe. Fra tradizione e cultura, Villa Bata è grande partecipazione per la festa di San Giuseppe. Fin da piccola, insomma, non potevo perdermi questa tradizione. Già da nove anni che vengo in chiesa proprio per questo motivo. È una bella tradizione perché innanzitutto ci ritroviamo un po' tutti qua per il minestrone e poi devo dire che comunque è una manifestazione che riunisce tutti e soprattutto anche i giovani. Infatti io mi trovo qua insieme a tutti i componenti del coro, alle mie amiche e alla mia famiglia. È una cosa che ogni anno ognuno di noi aspettiamo con ansia perché è una cosa bella da vedere, una cosa sostenuta da tutti. È una qualcosa che veramente infiamma i cuori dei villabatesi perché è una tradizione che è nata, ripeto, più di cento anni fa e che comunque non deve tramontare perché dobbiamo fare il tutto e per tutto di mantenere le tradizioni a Villabate, sia del bastone e anche di altre cose. Ogni anno per San Giuseppe il minestrone quantomeno è d'obbligo. Noi forniamo anche il pane e quest'anno si è aggiunta anche la salsicciata fatta da un'altra associazione. Insomma, si fa quel che si può per il paese e a noi piacciono le tradizioni, soprattutto per il patrono di Villabate che è San Giuseppe e quindi viva San Giuseppe. Sembrano tante le ombre che offuscano anche la nostra Villabate. Seguire Giuseppe significa riuscire a essere illuminati da una luce nuova che va oltre il buio, le tenebre, il male, quelle che possono sembrare solo delle sconfitte. È un impegno ma anche una promessa, quella che oggi riceviamo e che vogliamo concretamente assumere nella nostra vita. Seguire il nostro patrono ci consentirà di rendere più bella la nostra Villabate e rendere più autentici i rapporti e il nostro vivere civile. San Giuseppe, si veramente un gran santo, arrivi in Villabate e si ama tu tanto. Nuoci, pifare a te sempre un'ora, ama fare carità tutte le ore. San Giuseppe, San Giuseppe, te lo dico come a me frati, te lo dico come se fossi tu me, pace. Proteggi sempre Villabate. Viva San Giuseppe! Domani dalle ore 11.30 alle 18 in occasione della giornata mondiale della poesia promossa dall'UNESCO alle fermate sui autobus AMAT delle linee 101, 102, 103, 104, 107, 122 linee rossa alcuni volontari specializzati leggeranno delle poesie ai passeggeri. L'iniziativa è frutto di una collaborazione tra l'azienda di Via Roccazzo e un cartello di associazioni culturali palermitane riunite sotto il nome Codice Poesia. Con questo è tutto, grazie per la vostra attenzione e come sempre appuntamento alle prossime edizioni del nostro telegiornale.